Appena arrivata a Roma è iniziata l'avventura, infatti è venuta a prenderci Pami con la macchina che è stato il super mezzo di trasporto con cui siamo arrivati a Vieste. Dopo due orette di viaggio circa ci siamo fermati in autogrill e abbiamo pranzato. Visto che i panini non ci ispiravano particolarmente, io e Fede abbiamo mangiato il couscous con il pollo e Pami un'altra insalata con ceci e feta. Poi abbiamo preso un bel caffè per rigenerarci e anche dei dolcetti e visto che deve sempre succedere qualcosa abbiamo notato che la strada per Vieste era chiusa. Così abbiamo dovuto allungare il viaggio di ben un'ora, però alla fine siamo arrivati a Vieste. In particolare nella struttura in cui alloggiamo che è con Mamari a Vieste. Siamo subito salite sul terrazzo che è veramente meraviglioso, guardate la vista. E poi ci hanno fatto fare un mini tour dell'hotel che adesso vi faccio vedere. Innanzitutto è stato costruito in una ex strada comunale di Vieste e prima di essere trasformato in hotel era una casa padronale e questa è la cucina originale dove appunto si trovano tutti i tavoli per la colazione che non vedo l'ora di provare domattina.